Allora, la prima domanda è proprio quella della domanda dell'uomo della strada, ma che è una domanda che per me è fondamentale. Allora, aprile, mese della vitamina D. Innanzitutto, la vitamina D, qual è l'importanza per il nostro organismo della vitamina D? La vitamina D, intanto, è impropriamente chiamata vitamina, in quanto è un ormone. È un ormone che noi produciamo nella cute e che poi viene attivato con due passaggi, uno nel fegato e uno nel rene. Si produce quando la cute viene esposta ai raggi ultravioletti e quindi stare al sole è importante perché se non produciamo sufficiente vitamina D, facilmente andiamo in ipovitaminosi. L'ipovitaminosi è una condizione che si verifica nel momento in cui viene fatta un'analisi del sangue nella quale si valutano i livelli plasmatici di vitamina D. Perché una carenza di questa, che noi chiamiamo vitamina per la comodità, quali sono i problemi che può portare al nostro organismo? La vitamina D ha un ruolo fondamentale per la crescita e il mantenimento della salute delle ossa. Quindi la mineralizzazione, la corretta mineralizzazione delle nostre ossa, ricordo per i radioascoltatori, che l'osso è un tessuto che in continuo turnover viene riassorbito e ridepositato. Ma questo è un lavoro che prende molto tempo perché venga portato a termine. Normalmente ci si impiega una decina d'anni per fare questo cambio completo. Quindi farlo in una situazione di carenza di vitamina D ovviamente penalizza la fase di mineralizzazione. Per cui, siccome la vitamina regola il metabolismo calcio-fosforo, viene assorbito meno calcio dall'intestino, viene riassorbito meno calcio nei reni e il calcio viene depositato per rimineralizzare l'osso riassorbito in questo processo continuo di turnover in maniera molto più difficile. Quindi abbiamo la tendenza all'impoverimento del nostro scheletro. Si verifica lentamente perché è un processo molto lento che si svolge nell'arco di anni, ma comunque si va a impoverire l'osso creando prima una situazione che si chiama osteopenia e successivamente se l'osteopenia, come spesso succede, non viene intercettata si verifica la situazione che viene chiamata osteoporosi. Che è quella, ahimè, situazione che conosciamo un po' meglio anche perché diciamo una di quelle di cui si parla un po' più spesso Cosa accade allora nel mese della prevenzione, ma insomma in questo mese d'aprile, cosa sarà possibile fare? Dunque noi come onontoiatri vediamo che tutto quello che noi facciamo, anche le cose più semplici, quali possono essere le sigillature fatte sui dentini dei bambini, hanno un impatto diretto e immediato sull'osso. Perché l'osso è il tessuto di supporto dei denti, le radici dei denti sono nell'osso alveolare e quando l'osso va in sofferenza, di solito succede per un problema che si chiama parodontite che è legata a una infezione che provoca un'infiammazione che fa sì che l'osso alveolare si riassorba e quindi tutti i tessuti di supporto del dente, quindi l'osso, la gengiva, il legamento e la parte esterna della radice che si chiama cemento soffrono di questo problema ma l'osso è quello che poi determina nel momento in cui viene riassorbito in maniera pesante determina il rischio di perdere i denti. Quindi siccome molti pazienti, circa un 10% di quelli che soffrono di parodontite si ammalano di questo problema, di questa patologia in età giovanile quindi già abbiamo pazienti che anche a 15 anni possono avere o a 20 anni possono avere forme di parodontite che noi chiamiamo parodontite aggressiva di conseguenza ci troviamo spesso a valutare la salute dell'osso quindi chiedendo ai nostri pazienti di effettuare un esame densitometrico che ne valuti appunto il grado di mineralizzazione anche in età per le quali non si pensa come medici alla osteoporosi o alla osteopenia noi invece troviamo spesso situazioni serie sia di osteopenia che addirittura di osteoporosi anche in pazienti di 20 anni quindi l'odontoiatra ha un osservatorio privilegiato per un problema che poi si manifesterà in tutta la sua drammaticità parecchie decine di anni più in là quindi se noi oggi vediamo in un paziente di 20 anni una situazione di tipo osteopenico o di osteoporosi franca stiamo visitando, stiamo valutando un paziente che si fratturerà a 40, 50, 60 anni e i dati sulle fratture legate alla fragilità ossea che è il risultato poi della condizione dell'osteoporosi sono dati allarmanti quindi da questa situazione, dall'esperienza che in molti anni abbiamo maturato è venuta fuori l'idea di fare un'iniziativa in ambito nazionale che noi porteremo in tutte le regioni dove siamo presenti con le nostre cliniche per fare la prevenzione sia sulla malattia parodontale che sulla osteoporosi e un'ultima cosa le chiedo chi dei nostri amici dell'ascolto dice dove possa andare per approfittare di questa opportunità? a Firenze l'IMI, l'International Macrodentistry Institute Excellence Dental Network farà le viste gratuite per la parodontite con la valutazione della densitometria ossea se necessaria in via dell'Ariento numero 4 ok, via dell'Ariento numero 4 basta telefonare e fare, per prendere appuntamento alla struttura, alla clinica di via dell'Ariento numero 4 e fare riferimento proprio a questa iniziativa del mese della prevenzione della vitamina D e della prevenzione dell'osteoporosi in questo caso appunto è una prevenzione crociata per le due patologie la parodontite e il rischio delle fratture